La scura del giudice sportivo si è abbattuta sui giocatori di entrambe le squadre, 12 per parte. Hanno partecipato attivamente ad una rissa sul terreno di gioco durante la partita tra il Cassellina e la Fortes Juventus, valida per il campionato Junior S-19 Toscana, si legge nelle motivazioni. La gara si è svolta sabato scorso a Firenze, ma non è stata portata a termine. L'arbitro la sospesa alla 42esimo della ripresa, quando gli ospiti si trovavano in vantaggio per 1-0. A quel punto è successo di tutto, più che su un campo di calcio, pariva di essere sulla scena di un film western con una mega scazzottata, senza esclusione di colpi. Le sanzioni disciplinari più pesanti, sei turni, sono state inflitte a un calciatore del Cassellina per aver colpito con un pugno al volto un avversario e ad uno della Fortes Juventus per aver tirato un calcio alla testa ad un calciatore della squadra opposta. Complessivamente le giornate di squalifica sono state 60. Il giudice sportivo ha anche dato alle due società la sconfitta a tavolino con il punteggio di 0-3, oltre ad una multa di 200 euro.